Stai insieme Antonio da dieci, vi rinfaccia di non farla sentire più unica. Tu hai scelto Antonio! Se Dio esiste, perché ha creato delle persone brutte? Se Dio esiste, perché ha creato delle persone brutte? Se Dio esiste, perché ha creato delle persone brutte? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!